Buonasera a tutti e benvenuti in questo video aggiornamento. È da una settimana che non pubblico video qui su YouTube e voglio raccontare cosa è accaduto durante questa settimana e perché sono stato un po' assente qui dal canale. Come sapete tra febbraio e marzo ho pubblicato un video al giorno e sembrerebbe che l'algoritmo di YouTube apprezzi particolarmente questa cosa qui. Quindi la mia idea è quella di continuare a produrre un video al giorno. Il compromesso è che pubblicando un video al giorno molto spesso il montaggio, le locandine, la qualità dell'audio, la qualità delle luci può essere anche più bassa perché come avete visto a volte mi metto in auto e registro il video semplicemente tenendo il telefono in mano. Però ho capito che l'algoritmo YouTube lo apprezza, voi lo apprezzate, quindi la strada giusta per far crescere un piccolo canale come questo è di creare quanti più contenuti possibili. Un contenuto al giorno che non sia troppo lungo, che come avete detto nei commenti non sia troppo ripetitivo ed è quello che cercherò di fare. Ma allora perché sono scomparso durante questa settimana? Creare un video al giorno vuol dire che ogni giorno io mi metto lì e spendo circa mezz'ora per registrare il video, mezz'ora, un'ora per montare il video e più o meno altri 20-30 minuti per creare la locandina, per caricare il video sul canale, per scrivere la descrizione, mettere le parole chiave e tutta la parte tecnica. Quindi ogni giorno dovrei investire al canale circa un'ora e mezza, due ore. Il fatto è che a parte fare queste cose devo anche vivere la mia vita normale. Ad esempio questa settimana la mia fidanzata ha ricevuto un pacco dall'Italia dai suoi genitori che le hanno inviato dei dolci tipici italiani, ovviamente voi lo sapete, io sono sempre abitato a parlare con i danesi, però diciamo hanno inviato una colomba, hanno inviato un uovo di Pasqua e altri prodotti siciliani tipo le paste di mandorla. E il problema è che questo pacco si è disperso, quindi sono dovuto andare un pomeriggio dopo il lavoro a Copenhagen nel centro lì di raccolta, ho dovuto perdere tempo perché non trovavo il pacco, poi il pacco era danneggiato, hanno aperto il pacco, tutto era in ordine. Poi sono andato a casa, poi abbiamo fatto l'unboxing del pacco, poi ci siamo messi a parlare delle cose che abbiamo ricevuto, abbiamo assaggiato questi prodotti. Poi ho perso di due giorni perché sono andato a comprare le gomme estive per la macchina. Infatti qui in Danimarca, ma anche come diciamo si usa normalmente fare al nord Italia, ogni proprietario di auto ha due treni di gomme, uno invernale, uno estivo. Ed essendo che le gomme estive che avevo erano vecchie, ho perso un po' di tempo per comprare le gomme nuove perché inizialmente mi sono fatto un giro dai rivenditori di gomme nuove, quindi dai gommisti, per vedere quanto costassero. E alla fine ho deciso di acquistare le gomme per la C4 Cactus, quindi per la mia stessa auto, da un venditore privato che le vendeva. E ovviamente sono dovuto andare a casa di sto tizio che è a un'ora di strada qui e ho perso tempo perché poi è arrivato lì, ci siamo messi a parlare, ho misurato il battistrada con il cosino per misurare il battistrada delle ruote che tra l'altro non avevo, che ho acquistato. Poi una cosa dietro l'altra, si è otturato il lavello e mi sono messo lì a sturarlo, a pulirlo eccetera eccetera. Quindi fare un video al giorno è bello, è la cosa che voglio fare, però lo devo fare compatibilmente con quelli che sono gli impegni della mia vita privata. E poi la cosa più importante che voglio dire con questo video qua è che mi sono messo a studiare in maniera seria per l'esame di P&P. Magari di questo farò altri video sul canale, però l'esame di P&P sarebbe l'esame per diventare project manager professionista. Per fare l'esame di project manager bisogna prima candidarsi e mandare l'application, io già l'estate scorsa inviai l'application ed è stata accettata e adesso ho un anno di tempo per fare l'esame. Avevo già acquistato i libri mesi fa, però non mi ero ancora messo a studiare in maniera seria perché per un periodo di tempo mi sono dedicato a fare altre cose e adesso sono tornato alla carica a studiare P&P, specialmente perché dovete considerare il fatto che io ho fatto sempre il planner nel project management ma di progetti di costruzione che sarebbero progetti diciamo predittivi, quindi dove c'è una fase magari di grado appalto, di pianificazione, poi di esecuzione e poi di end-over. In realtà ultimamente da qualche anno l'esame di P&P, quindi di project management, si focalizza sull'agile o agile, quindi su quello che è il project management per il software developing che è una cosa che io non ho mai fatto, è un processo iterativo molto diverso da quello che utilizziamo nel mondo delle costruzioni, magari ve ne parlerò qui sul canale in maniera più approfondita quando e se passerò l'esame. E' effettivamente una cosa che abbastanza mi ha colpito leggere queste cose qua perché quando si va a costruire un software e si utilizza un metodo di pianificazione totalmente diverso a quello che utilizziamo in costruzione, effettivamente come ogni cosa anche questo va studiato, non è una cosa che già sapevo, dove sto anche investendo del tempo e vi darò aggiornati qui sul canale per quanto riguarda l'esame di P&P perché è una cosa che ci tengo particolarmente a fare che praticamente nel mondo delle costruzioni chi vuole fare strada hanno tutti, anche nel mondo del product management, quindi comunque non solo progettazione di costruzione di infrastrutture ma anche ad esempio chi progetta cose piccole, cose elettroniche, prodotti diciamo che per produrli magari ci vogliono pochi minuti di linea di produzione o addirittura pochi secondi. L'esame in questione costa la bellezza di 545 dollari più tutti i libri che ho comprato quindi è un bel investimento da parte mia ho deciso di non farmi finanziare questo esame dalla ditta per cui lavoro perché avevo già parlato con il mio capo riguardo il fatto di fare questo esame qui e lui mi aveva detto che ancora era abbastanza presto per me perché comunque questo è un esame che si fa dopo anni di esperienza in realtà io ho fatto l'application diciamo per quanto mio, ho deciso di prepararmi per quanto mio quindi diciamo poi magari un domani se passerò l'esame chiederò alla ditta magari di rimborsarmi ma visto che avevo visto il mio capo non molto propenso a farmi fare questo esame qui qualche mese fa ho pensato di non voler forzare la mano magari lui ritiene che questo esame qui lo si faccia dopo magari 10 anni circa di esperienza nel mondo del project management però io penso da giovane ambizioso che questo è un pensiero abbastanza retrogrado e voglio dimostrare che solo con 5 anni di esperienza nel mondo delle costruzioni si può riuscire a passare l'esame di PMP adesso vi auguro una buona Pasqua a tutti quanti vi dico che ritornerò a fare più o meno un video al giorno cercherò di fare quanti più video possibili per chi volesse iscrivetevi al canale gesto totalmente gratuito basta andare lì in basso e cliccare iscrivetevi al canale per chi volesse tenersi in contatto con me ovviamente trovate sempre in descrizione il link del mio LinkedIn e trovate anche il link del canale Telegram dove ogni giorno si risponde sempre ai messaggi e sono sempre attivo grazie a tutti quelli che hanno visto questo video ci vediamo domani con un prossimo video penso ore 12, 12 e 30 vi darò informati ciao a tutti